Sono trascorsi quattro giorni dalla decisione del sindaco Cannito di revocare dall'Aggiunta l'assessore alla polizia locale Elisa Spera, un tempo che normalmente sarebbe sufficiente per chiarire ogni aspetto delle reali motivazioni dietro un atto istituzionale così delicato e in apparenza incomprensibile. A Barletta invece succede che anche i diretti interessati dalla vicenda siano all'oscuro di tutto. Non sa nulla Elisa Spera, dalla quale il sindaco si è congedato in maniera criptica, elargendo tuttavia complimenti sul suo operato d'assessore. Non ha lasciato trapelare nulla Cannito, per il quale è semplicemente venuto meno il rapporto fiduciario con la dottoressa Spera. Non sanno darsi una spiegazione anche i consiglieri comunali Flavio Basile, Michele Trimigno e Gennaro Calabrese, che questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare la loro posizione in merito alla revoca dell'assessore di riferimento del gruppo. Il sindaco avrebbe agito in autonomia senza interpellarli ed ora, anche se sono già trascorsi quattro giorni, attendono una spiegazione. Abbiamo chiesto al sindaco un incontro e attendiamo di capire le reali motivazioni che l'abbiano indotto a intraprendere questa decisione che, ripeto, è nelle sue prerogative. È fondamentale chiarire questo aspetto. Aspettiamo che ci convinca sulle sue bontà, che ci convinca sulle reali motivazioni che hanno portato a questa decisione. Ripeto, non abbiamo altri retropensieri in tal senso. Soddisfatti dell'operato del loro assessore, i tre consiglieri di Barletta al centro sono pronti a riproporre al sindaco il nome di Elisa Spera. Ma non abbiamo motivazioni per le quali non credere in una persona che ha portato dei risultati e che ha ricevuto manifestazioni di elogio, di stima, di gratitudine anche da tutti gli altri componenti e la maggioranza. Secondo Flavio Basile, le incomprensioni con il presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte, alla base di una pecche di rimostranze inviata al sindaco e al segretario generale, non sono in alcun modo collegate alla revoca di Elisa Spera. Possiamo dire che il clima nella maggioranza è sereno? Il clima nella maggioranza è sereno con un sole che splende molto per cui ci aggiungerei anche questa similitudine. È tranquillo anche perché ripeto abbiamo un sindaco che i fatti li fa e lo sta dimostrando sotto gli occhi di tutti. Non avrebbe senso, noi siamo i lealisti, siamo quelli che abbiamo creduto in lui dall'inizio, siamo stati i fautori della sua discesa in campo. I tre consiglieri di Barletta al centro attendono di essere ricevuti dal sindaco per dei chiarimenti su quanto accaduto. La scelta del nuovo assessore dicono non è una priorità del gruppo. L'aspetto è di natura politica, di coesione affinché la città voli, affinché la città prenda e riceva il applauso delle città viciniori, viciniori che ci guardano con grande entusiasmo e con grande curiosità anche. Quindi non dobbiamo deludere nessuno sul territorio. L'importante non è pensare alla visibilità in più o in meno eccetera. Non è questo che ci interessa. Ora è importante essere coesi, stare vicino al sindaco Cagnito, credere in questa maggioranza, ripeto, in cui noi ci abbiamo creduto dall'inizio e andare avanti con forza, determinazione e passione.